Una bella giornata di sole, l'occasione giusta per passeggiare per il centro storico di Bassano, uno sguardo agli stand che oggi è il giorno di mercato, un aperitivo ai bar che affacciano sulla piazza, ma è anche l'occasione, vista l'alta affluenza di Bassanesi per le vie della città, di chiedere come valutano l'amministrazione comunale di Elena Pavan, eletta a maggio scorso al primo turno e sostenuta da una coalizione di centrodestra. Dalle testimonianze raccolte sembra che la prima cittadina debba risolvere qualche problema, dalla viabilità ai servizi, anche se come sentiremo molti auspicherebbero qualcosa in più dall'aggiunta. La sindaca nel complesso non ne esce con le ossa rotte nei primi tre mesi e mezzo di amministrazione, ma comunque restano delle sofferenze a cui noi di Rete Veneta abbiamo dato voce. C'è qualche richiesta che vorrebbe fare al sindaco o all'amministrazione? Io vorrei qualcosa di più per i disabili, visto che ho un figlio disabile, ho tanti problemi, anche negli ausili, quelle cose lì. Di essere un pochino più accorto nella disabilità poi, un pochino più... Quando è la prima persona che ce lo dice? Come mai signora? Perché tocco con mano delle cose in famiglia che ci sono e non c'è tanta disponibilità. L'amministrazione comunale di bassa? All'amministrazione non vale niente. La qualità della città, insomma, un po' più di pulizia, otturazione dei fossi e dare possibilità ai commerci di lavorare un po' meglio. Lei che voto darebbe all'amministrazione comunale? Per adesso 9. Quindi vuol dire che sta lavorando bene? Sì, abbastanza. La viabilità, io abito al Cabaroncello e abbiamo la via sempre intasata e sì che se riescono a fare qualcosa per smaltire un po' il traffico, per noi è una grande cosa, insomma. La cosa che mi ha sorpreso di più, venendo da un'altra parte d'Italia, è che facendo anche i carri si fa anche un po' di sporcizi, a terra è stato subito tutto pulito. Con le barriere architettoniche? Questa è la cosa più bella, perché non esistono barriere architettoniche qui, c'è una mia compagna che è disabile e possiamo andare da qualsiasi parte.